Oggi la presentazione di Alfred Duncan, il centrocampista della Fiorentina che è già pronto per esortire anche nella prossima partita a Genova. È pronto ed è soprattutto il segnale della società per pensare ai risultati presenti. Non vorremmo che sembrasse che noi già stiamo preparando solo ed esclusivamente la prossima stagione. Non è così perché per noi la cosa fondamentale è il presente, dobbiamo pensare adesso. Tornando a Firenze si sente a casa, ha detto perché la sua casa è a pesce, ha già giocato nel Livorno, ha rincontro ai suoi ex compagni come Ceccherini, come anche Benassi e soprattutto il suo ex mister Beppe Iachini con il quale il feeling è stato ottimo fin dall'inizio. La sua risposta anche per quel che riguarda il clima dello spogliatoio è stata molto chiara. Sono forti, sono tutti ragazzi bravi, infatti mi hanno aiutato anche in serie di miei abbastanza bene. Sono già due settimane, mi alleno già con la squadra da pochissimi giorni, ma mi trovo già bene, mi sento tranquillo in campo grazie anche al mister. Penso che questo è molto importante per un giocatore che viene da una realtà un po' diversa, perché cinque anni a Sassuolo non è stato così facile cambiare aria, ma comunque mi stanno aiutando tanto per insermi bene. Ho bisogno anche di questo per poter dare anche massimo.